Ti do ufficialmente benvenuto al video di presentazione di Paltrack. Che cos'è Paltrack? È un'applicazione che si trova sullo Shopify Store per quanto riguarda il tracking di Paypal, ovvero dei codici di tracciamento dei tuoi ordini che effettuerai attraverso Paypal. Se non conosci Paypal è molto grave in quanto è praticamente il provider di pagamenti numero uno al mondo e sicuramente se non lo utilizzi devi assolutamente utilizzarlo nel tuo store Shopify in quanto andrà ad incrementare esponenzialmente le tue vendite. Ora, perché quest'app Paltrack è fondamentale? Perché utilizzando Paypal tu dovrai inserire manualmente i codici di tracciamento all'interno di ogni ordine che riceverai direttamente su Paypal. Quindi, cosa fa questa Shopify app? Semplicemente ti automatizza tutto il processo. Quindi tu non devi stare lì uno per uno a mettere i codici di tracciamento all'interno di Paypal ma lo farà automaticamente quest'app che è assolutamente la numero uno, è nuova. App fondamentale ovviamente per automatizzare tutto il tuo processo di vendita come abbiamo detto, in quanto non devi perdere tempo per cose, lavori manuali diciamo, ok? Devi ovviamente per quanto riguarda il tuo e-commerce essendo un business online devi automatizzarlo il più possibile per focalizzarti poi successivamente su quei fattori che ti portano vendite. Quindi tutti questi lavori manuali che ti fanno perdere tempo, stai lì a copiare il codice, inserirlo su Paypal, eccetera, non devi assolutamente farli tu, devi fare in modo di automatizzare tutto il processo. E Paltrack ti aiuta in tutto questo. Andiamo a vedere le caratteristiche vincenti, traduciamo ovviamente, quindi vi ho tradotto velocemente la pagina per farvi vedere un po' le caratteristiche chiave di questa applicazione che si trova, ripeto, sullo Shopify App Store e costa solamente, adesso andiamo a vedere, 9 dollari e 99, quindi circa 9 euro. Ha i tracciamenti illimitati, quindi tracking codes senza limiti, sincronizzazione istantanea, quindi come abbiamo detto non devi fare nulla, approvato a Shopify, protetto da Paypal, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Avete anche una prova di 30 giorni, questa è la pagina di Paltrack su Shopify App Store, vedete più o meno ci sono scritte le stesse cose, molto semplicemente le installate e siete pronti per tracciare tutti gli ordini direttamente su Paypal. Perché questa è una cosa fondamentale? Perché? Per chi non lo sapesse, Paypal può bloccarti i soldi, può bloccarti l'account, può bloccarti tutto se vede che non inserisci i codici di tracciamento. Quindi soprattutto per te che fai dropshipping magari, ma in generale per qualsiasi tipo di imprenditore, e-commerce che vende prodotti online, quindi deve per forza di cose dare un codice di tracciamento a propri clienti, fornire quindi un codice che traccia i pacchi dei propri ordini, deve assolutamente fare in modo che Paypal non blocchi i fondi e quindi non blocchi proprio tutto il sistema perché non utilizzare Paypal adesso è veramente un conversion killer, che ti farà perdere un sacco di soldi. Quindi devi assicurarti di non essere mai bloccato da Paypal, in generale mai bannato ovviamente, che per forza di cose non ti blocchi il cash flow, che è fondamentale per qualsiasi azienda, in particolare per un e-commerce che si ritrova ogni giorno a spendere, investire in pubblicità, in nuovi advertising, eccetera eccetera. Quindi non puoi perdere tempo e soprattutto shareverlarti per quanto riguarda il tracking di Paypal. Ok? Quindi assicurati di installare quest'app che è un must nel tuo Shopify store e ti garantisco che non te ne pentirai in quanto ti salverà un sacco di tempo e un sacco di... Ovviamente trovi il link di Paltrack sotto questo video, quindi assicurati di installarlo il prima possibile e di utilizzare Paypal nella maniera corretta, mi raccomando, altrimenti rischi veramente tanto. Qualsiasi domanda me la puoi fare qui sotto nella sezione commenti e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo.